Ragazzi, oggi siamo a un nuovissimo video Il mio parere su Messi Messi ha lasciato Barcellona come sapete tutti come sapete tutti ci sono molte squadre molte squadre per prenderlo prenderlo, come il City la Juve, il Lione scusate, il Lione no PSG, il City l'Inter, la Juve lo United ma se Messi andrà all'Inter o alla Juve alla Juve accetterebbe perché c'è Cristiano ci c'è R7 se andrà all'Inter sarà un'operazione fattibile a livello finanziario per me no perché ci vogliono squadre con i soldi il City e il PSG hanno hanno i sceicchi dove hanno molti soldi per me andrà a R-City per voi scrivetelo scrivetelo e Messi notizia bomba Messi è il City offerto 100 milioni più Bernardo Silva più Bernardo Silva al Barcellona incredibile e ci rivediamo al prossimo video scrivete nei commenti dove secondo voi Messi andrà andrà e poi un altro caso McKennie io sono contento che McKennie un altro top player un altro giovane forte arriva alla Juve secondo voi per me farà la differenza farà ringio nel rosa ci rivediamo al prossimo video scrivi iscrivetevi al canale mettete la campanellina bella grazie a tutti